Si sono riuniti a Sant'Antioco i rappresentanti delle nove marinerie del sud-ovest Sardo per discutere dei problemi che colpiscono la categoria. L'assemblea, organizzata dall'Associazione Pescatori del Sud-Ovest, ha posto all'unanimità il problema degli indennizi bloccati da due anni del fermo pesca dovuto alle esercitazioni militari del poligono di Capoteulada, i piani di gestione locale e le nuove normative europee sulle marcature ed identificazioni dei pescherecci. Saremo presenti alle manifestazioni che farà il territorio che manifesterà Roma per tutte le questioni che riguardano il comparto economico del Sulcis e cercheremo di portare sia verso la nostra regione Sardegna sia verso il Ministero della Difesa le problematiche del settore pesca che ormai non possono più sopportare questi disagi. Durante l'assemblea è emersa da parte dei pescatori anche la volontà di nuove azioni di proteste eclatanti come la consegna alla Capitaneria di Porto delle licenze. Secondo me ci sono molti problemi grossi, adesso addirittura oggi ho sentito che hanno levato l'iva dal gasolio, ma prima non possiamo andare avanti, adesso è ancora peggio. Molte le preoccupazioni degli operatori della piccola pesca. Sono proprio arrovinato, sono pronto a buttare la licenza perché non si può, non serve a niente, è tutta una fregatura. Siamo in una situazione a dir poco disastrosa, non ci sono più prospettive per nessun futuro di nessun tipo e di nessun genere nel campo della pesca.